Ebbene sì, arriva finalmente in Italia Starbucks. Non toccherà più espatriare per godersi un calorico frappuccino, un pezzo di cheesecake o un soffice muffin ai mirtilli, ma semplicemente arrivare in piazza Cordusio in pieno centro di Milano a due passi dal Duomo. L'azienda americana è stata decisamente sul pezzo, forse perché dietro c'è anche la mano di un'azienda italiana, per cassi. Infatti, se pensiamo che quello che preoccupava di più il bel paese era la qualità del caffè, sappiamo tutti che il caffè italiano non è paragonabile alla brodaglia americana. Il nuovo locale ospiterà una torrefazione, con tanto di preparazione del caffè a vista. Arredamento chic, perché siamo comunque nella capitale della moda, prezzi più contenuti del ristorante di Cracco, ma comunque un espresso costerà 1,80 euro. E per non deludere la città che ha lanciato la moda degli aperitivi, avrà anche una zona cocktail dove poter sostare la sera. Forse ci abbiamo messo un po' ad arrivare al livello delle altre capitali europee che vantano Starbucks da anni, ma direi noi abbiamo fatto le cose indubbiamente con stile.